E' sempre un privilegio parlare per ultimi perché si dicono parole definitive e quindi non c'è dubbio che stasera con la complicità degli amici della Fondazione della Scuola dei Librai definiremo il nostro orizzonte professionale e mentale nei prossimi dieci minuti, penso che abbiamo un massimo dieci, no? Si finisce alle sei e un quarto, mi sembri capito? Così dal programma? No, dal programma, ma dalla realtà si finisce alle sette. Ho capito. Ma qui però non siamo nel sud Italia, siamo nell'estremo nord. Sì, ma ci arrangiamo. Mi hanno detto che c'è una precisione sugli orari, Achille, che cosa succede? Dei tabagisti? Ho capito. Va bene, faremo del nostro meglio per non farvi tirare il collo prima della scena di Bondadori che prima della sentenza dell'antitrust si annuncia ricca. Dopo non lo so che succede, perché forse gli levano qualche antipasto, però prima si annuncia molto ricca. Dunque, quando gli amici, le persone che hanno da anni questa iniziativa straordinaria della scuola ci hanno chiamato e mi hanno detto che pensavano a un dialogo con Antonio Sellerio, io ho pensato che un tema che poteva essere interessante, visto che qui si parla giustamente di dati, di realtà, era affrontare invece un argomento assai spinoso, quasi utopico, ma come sapete quest'anno siamo nei 500 anni dell'uscita dell'utopia di Tommaso Moro, quindi bisogna avere, ognuno deve avere le proprie utopie e le utopie servono, come si sa, non perché si pensi di realizzarle in terra, se no si finisce qualche volta nei gulag, ma servono come ideale regolativo. Dice, io vorrei nella mia vita diventare Mick Jagger, questa è sempre stata la mia utopia, poi, come vedete, i capelli già non ci sono, mancano altre qualità, quindi non sono mai riuscito a diventare Mick Jagger, però continuo a pensarci ogni tanto e cerco di ispirarmi a questo modello. Un'utopia editoriale, forse, ma questo lo vorrei vedere con voi, è quella che esista o si possa creare una comunità dei lettori. Ho pensato che potesse essere interessante, ho proposto alla scuola, di invitare Eric Vigne, che è seduto qui vicino a me, a cui darò la parola tra pochi minuti, non solo perché Eric Vigne è una persona che lavora in una grande casa editrice come Gallimari, grande in doppio senso, sia perché è una delle più prestigiose case editrici europee, sia perché è una grande casa editrice, cioè una casa editrice che ha al suo interno molte sigle, Eric mi diceva, solo per dare un dato su Gallimari, che Gallimari è stata fondata nel 1911, quindi sono molto contento perché ben dieci anni dopo di la terza, sono molto più giovani, da Gaston Gallimari, oggi c'è un Antoine Gallimari, che è la terza generazione, è il terzo gruppo francese, fa il 12,5%, quindi per darvi l'idea che un gruppo editoriale è molto importante, poi Rick ho chiesto di dirci anche due parole sulla Francia, perché può essere interessante da questo punto di vista come comparazione, anche come liberie, 300 persone lavorano a Gallimari, 2000 persone lavorano nel gruppo, che comprende sigle prestigiose come Flammarion, eccetera, pubblica 6-700 titoli all'anno, e Rick ne segue nella sua sezione, che è quella della saggista in scienze umane, una cinquantina. Rick è anche una persona che negli anni si è occupato molto dell'editoria, ha scritto un libro, ha fatto un libro sull'editoria, si è molto occupato della legge Lang, che sapete è la legge che regolamenta il prezzo, è intervenuto, interviene tuttora, è invitato, cioè è una persona che si è occupata anche pubblicamente delle questioni del libro. Mi sembrava interessante che portasse questa esperienza. Quindi questo dialogo, se voi siete d'accordo, si può svolgere così, molto semplicemente. Io pongo un paio di questioni, do la parola ad Eric e poi ad Antonio e poi vediamo cosa viene fuori, se avete voglia che voi di... Perché ho pensato al tema? Perché non mi ricordo se, Stefano, l'anno scorso o due anni fa, concludendo la scuola, Umberto Eco disse, proprio di fronte al sviluppo delle attività digitali, online, eccetera, la liberia fisica può trovare un nuovo rilancio come comunità dei lettori, cioè come luogo in cui i lettori si incontrano. Questo può avvenire in tanti modi, ma certamente è un tema. Quindi mi sembrava un tema della liberia, ma mi sembrava anche un tema degli editori, particolarmente dell'editoria europea e direi ancora di più continentale. In che senso? Beh, cominciamo col dire una cosa per sgombrare ogni equivoco. I lettori di libri, per fortuna, sono persone diversissime tra loro, quindi le diversità probabilmente prevalgono sui tratti comuni, insomma leggono per fortuna libri di persone diverse per età, diverse per professioni, per propensioni politiche. A proposito dell'età, l'altro giorno Giovanni Peresson mi ha dato un grafico che io ho portato qui, me lo conoscete, strepitoso, perché noi continuiamo a sentire sta solfa che i giovani non leggono, la penetrazione dei libri sia cartaci sia e-book per fasce d'età dice chiarissimamente che leggono molto di più i giovani dei vecchi. Quel grafico che mi ha fatto vedere Giovanni dice che c'è un piccolo avallamento, lo sappiamo, in età di adolescenza, poi dai 18 è altissimo, è molto più alto, è basso perché è basso per l'italiano e poi cala 50, 60, 70, quindi è una scemenza quando sentite dire, il prossimo che continua a dire i giovani non leggono libri, girategli il grafico di Peresson. Questo per dire che comunque sono diversi per l'età, ma anche appunto per gusti si compra in libreria da romanzo a ricettario di cucina, una delle cose che ho trovato proprio veramente impressionanti dal punto di vista di ignoranza cognitiva è che l'associazione e gli editori abbiano potuto fare un'iniziativa in cui per diffondere la lettura c'erano solo romanzi, come se il romanzo fosse il genere unico che attrae il non lettore. Noi sappiamo che il non lettore si compra un libro sulla vita di Enzo Ferrari perché gli piacciono le macchine, uno dei libri più letti è l'Artusi, la Bibbia forse è un romanzo secondo l'associazione a cui appartengo, si legge per motivazione e se si legge per motivazione si legge in base alle passioni che ognuno coltiva. L'idea di formare questi lettori pur così diversi in una comunità è un'idea che gli editori coltivano da tempo e lo strumento principe mi sembra sono le collane, sono state storicamente le collane. Le grandi casidici europee, Galimare è un caso ma in Germania, in Spagna, in Italia si sono strutturate con un'idea un po' pedagogica, cioè io faccio una collana, prima Scarlini citava gli scrittori d'Italia, gli scrittori d'Italia sono un'idea assolutamente pedagogica di Croce, dirò agli italiani cosa devono leggere, dirò agli italiani che questi sono i grandi scrittori della storia italiana e quella collana serve a questo, se hai letto il primo leggi il secondo e così via. Quindi un percorso intellettuale e culturale. L'editoria anglosassone non ce l'ha questo, l'editoria anglosassone tra l'altro l'avrete notato, una cosa impressionante, non ha il nome dell'editore in copertina, l'editoria anglosassone da Penguin fino a Oxford University Press, c'è l'ha sul dorso, a noi è ovvio che anche Mondadori ha anche un editore commerciale che non ha collane così strutturate, l'editoria anglosassone non ce l'ha, né americana, ma l'editoria anglosassone ha le serie, non ha le collane, cioè ha la Oxford Series of Ancient History, cioè sei volumi chiusi, ma non ha l'idea pedagogica della collana che va avanti nel tempo. Ora oggi sembrerebbe che quel modello delle collane sia in crisi, che ci sia un modello individualistico più forte, questa è la prima domanda che faccio a Enrique ed Antonio, cioè sembrerebbe che gli editori, tutti gli editori vadano più verso l'idea che ogni libro è un fatto, è diverso, quindi ha una copertina diversa, tra l'altro con una cura grafica mi ha colpito in questi giorni andando in Inghilterra la straordinaria cura grafica dei libri, che è un elflesso evidentemente degli ebook, un ritorno all'attenzione per il libro come oggetto fisico, che è molto interessante e che dà dei risultati, il best seller di Rovelli pubblicato da Penguin è una meraviglia, l'edizione inglese, anche quella delfi, ma l'edizione inglese è bellissima, è proprio un oggetto fisico rilegato nonostante sia piccolo, questa idea di comunità quindi sembrerebbe rimessa in questione oggi, perché? Perché forse i gusti dei lettori sono più disparati, random, difficili da, e quindi questa continuità, per un libraio questo è un tema fondamentale, l'organizzazione dei libri per collano, per temo, in un altro modo e la identificazione di questi lettori in libreria è un tema, forse ogni lettore oggi vuole farsi un proprio menu, eppure questa idea di comunità che sembra così indebolita anche, diciamo, non solo nella libreria ma anche nella società, nella cultura, si dice che siamo nell'epoca appunto di una cultura individualista più libera, sembra riaffiorare da altre parti, ad esempio il successo dei festival, perché la gente va a Mantova, al festival di letteratura, ma è nei tanti festival, solo per ascoltare uno scrittore, se lo può ascoltare anche su YouTube, e non ci va a tanti quando quello scrittore magari va in libreria, non sono così tanti come, perché secondo me si riconosce negli altri, se voi guardate il filmato promozionale che fa il festival di Hay-on-Wye, che è il primo storico festival inglese, vedrete che è un bellissimo filmato in cui dice che ci sono tanti modi di essere felici, si vedono persone anziane e giovani, il modo migliore è esserlo insieme, condividere, quindi stare appunto, formare una comunità. Ci sono comunità online, forti, club, anche noi nel nostro piccolo abbiamo fatto, facciamo un esperimento, siamo a lei a Libia ed altri, di streaming, in cui tu puoi entrare pagando come Spotify un abbonamento e puoi discutere con l'autore, formare un thread, un gruppo di discussioni. Ecco, io mi fermo qui dicendo che ovviamente mi piacerebbe sentire la vostra opinione per quanto riguarda la libreria, io credo che la libreria possa essere un luogo di comunità, soprattutto in un senso che la libreria come spazio fisico può essere sorpassata dal libraio, il libraio è un agente fondamentale in una certa città o in una certa, in un certo quartiere, uno spazio fisico e in quel quartiere esistono altre comunità, esiste la biblioteca ovviamente, ma esiste un teatro, esistono degli spazi pubblici, esistono spazi dove la gente va a mangiare, va a bere e credo che più forte diventa l'Aleanza e le librerie le fanno già, molte librerie fanno sperimenti interessanti su questo. Sappiamo Rocco Pinto che ho visto prima, non so se adesso c'è, facendo portici di carta ci ha fatto vedere e toccare con mano una cosa evidente, appena il libro va fuori alla libreria trova nuovi lettori, a Torino hanno fatto questa grande mostra sotto i portici. Quindi la comunità può essere fatta dal libraio nella sua libreria, nello spazio fisico ma anche fuori, collegandosi con altri attori. E allora, appunto, io credo che questa è una domanda da riproporci, se effettivamente questa della comunità dei lettori sia un'utopia, alla fine i lettori sono clienti, singoli, ciascuno con le sue propensioni, bisogna fare una grande attività di marketing e portarli all'acquisto, ognuno della sua cosa. Oppure sia sensato immaginarli come una comunità. Antonio Sellerio, quando abbiamo parlato in questi giorni, mi diceva una cosa che vi vorrei chiedere di sviluppare, che è giusto, cioè le collane sono un aspetto ma c'è un aspetto che ha a che fare con l'identità complessiva. Sellerio è una casa editrice che ha delle collane ma che certamente ha fortissimo un'immagine complessiva. E l'altra cosa che mi diceva Antonio, che in un caso è molto più giovane di me, anche se non si vede, non sembra, ma è decisamente più giovane, è che ho pensato se presentare a voi Sellerio, per un minuto ho pensato perché io sono molto pedante e pedagogico e penso che bisogna sempre presentare tutti, cioè poi ho detto no, non si può presentare la scuola di Libra intorno a Sellerio, quindi non lo presenterò. Ma mi diceva l'altra questione sono i social network ovviamente, cioè tutto quello che l'editore può fare e anche il Libraire può fare per trovare una comunità attraverso quel mezzo. Quindi chiederei a Derrick di cominciare questo dialogo. Buongiorno, vi ringrazio di m'accueillare e di m'avere invitato. Io ne 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 ho si la edizione Gallimard sono a questo punto prestigieuse. Ce che ho sai, è che c'è d'abord una casa generalista. C'est a dire che c'è una casa che publierà dei ouvri a delle serie dei romanti, che si credo sarà queste salire e che poteranno financeri di sviluppo più exigeanti in scienze umane, in diszipline in cui i sviluppi si vendono, quando ci saranno un successo di 2-3 mili exemplari, allora che un successo in littorazione può essere un demi-million, un milion di exemplari, e che noi viviamo di successo nel tempo immédiato che finanzano dei sviluppi che mettono dei anni a essere riconi per loro pubblico e dei anni a s'imposare come dei classi. Ciò che donna una struttura molto particolare aux edizioni Gallimard è che noi siamo una delle ragazze francese che ogni anno facciamo 80% di nostro chiffre di affare su dei libri che hanno più di un anno di existenza, cioè che possono avere tra un anno e 90 anni o 100 anni di existenza. E' importante per noi di avere, con i libriani, delle relazioni che vi raccontare perché bisognava entrare in la tecnica per comprendere perché io posso, a mio livello, continuare a pubblicare dei libriani abbastanza exigeanti come ciò che pubblicano. Le rapport a la libreria è di più in più, si è trasformato di più in più queste ultime anni, non solo, io lo cito in passando perché voi conosce tutti i problemi, il tempo di lettura è restritto al profilo di altri media, il tempo di lettura su papier è restritto al profilo di altri media la lettura sull'ecran. De più in più di persone immaginano che la rencontre con un libro può essere fatto via Amazon. C'è un problema di traduzione? Noi ciò che c'è... Noi ciò che c'è... Non deve fare, non deve sveicolare. Grazie. 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 Il faut savoir l'extraordine fragilità, c'est que ces 250 libraires relèvent d'une structure très particulière à la France où nous avons une capitale qui pompe toute la vie intellectuelle. Il faut savoir que quand vous prenez la structure d'un ouvrage de Jürgen Habermas, de Jacques Derrida, de Vargas Llosa ou d'Elza Ferrante par exemple, 70% des ventes se feront dans la région parisienne. La région parisienne c'est Paris, moins de 2 millions d'habitants et l'immense région qui l'entoure ça fait 12 millions d'habitants. Ces 12 millions d'habitants à eux seuls assurent 70% des ventes de l'essentiel des ouvrages, je ne dirais pas de qualité mais disons intellectuellement exigeants. Il reste 30% pour les régions et il y a une inégalité de répartition dans les régions qui fait que vous avez un véritable désert culturel à l'ouest de la France où vous n'avez aucune librairie de premier niveau par exemple. Donc c'est vous dire que dans cette dialectique de la défense et de notre mobilisation pour la librairie, pour les libraires et pour le métier que vous faites, c'est pas par amitié, c'est pas par philanthropie mais c'est pour pouvoir nous continuer à publier les ouvrages que nous avons envie de publier. Merci. Antonio Mi piacerebbe che tu dicessi anche qualcosa su quello che ha detto Eric, in particolare visto dal nostro paese cosa ti pensi delle politiche pubbliche francesi Eric non ha detto un particolare importante ma forse il caso che lo dica quanto spende il Centro Nazionale del Libro? Qual è il budget di promozione della lettura in Francia? Il est en baisse parce que maintenant les entreprises prennent les votos copieuses en leasing et nous avons de plus en plus de difficulté à avoir une aide du CNL mais prioritairement elle va à la librairie alors qu'avant elle est prioritairement à l'aide à la traduction. No, ma qual è il budget generale del Centro del Libro? Il doit être de 10 milions je crois 10 milioni di euro. Adesso non chiederemo a Romano Montroni di dirci qual è quello italiano per carità di patria ma il Centro del Libro francese spende 10 milioni e poi c'è l'esperienza di Adelk in cui sono gli editori che sostengono librerie di creazione con certi parametri e con una certa idea. Anche su questo mi piacerebbe sentire Antonio che ne pensa. Io qua scrivevo i miei appuntini veramente assolutamente privi di significato qualche cifra che ci ha dato a un certo punto mi sono ritrovato quasi inconsapevolmente a scrivere la parola fantascienza. Credo che tra le varie cose che colpiscono è l'essere riusciti a mettere insieme un gruppo di privati così ampio essere riusciti a mettere insieme a smuovere il pubblico e secondo me diciamo Pepe si era fatto capofila qualche anno fa di un tentativo di proporre soluzioni analoghe in Italia uno degli ostacoli su cui ci si scontrò subito è che in Italia è impossibile fare passare la definizione di librerie di qualità e questo diciamo credo che sia un limite non so se è un limite sicuramente è una caratteristica che ci differenzia rispetto alla Francia cioè l'incapacità di porre dei criteri che in qualche modo siano oggettivi per distinguere una libreria da un'altra senza rifarsi ai valori quantitativi diciamo le conseguenze le stiamo vedendo perché se è vero che nell'ultimo anno le librerie indipendenti hanno hanno avuto una reazione hanno avuto un trend migliore diciamo conosciamo chi fa questo lavoro conosce benissimo tutte le le librerie che sono in difficoltà le chiusure che ci sono state e soprattutto la maggiore difficoltà che hanno le librerie io capisco bene cosa appena detto Eric non si tratta di filantropie di filantropia la salute della libreria è necessaria per poter promuovere il nostro lavoro se le librerie non hanno un minimo di serenità finanziaria continueranno a comprare solo quello che sono certi di vendere se è vero come dice Vinge che la gran parte del fatturato viene fatto con libri pubblicati negli anni passati a mio giudizio anche vero devo dire che secondo me le librerie si devono differenziare dalle biblioteche e per far sì che la gente torni spesso devono anche essere in grado di cambiare e di proporre sempre delle novità che possono essere che possono essere interessanti comunque qua davanti a noi abbiamo Romano Montroni che più di tutti è in grado di dirci le difficoltà a livello politico che ci sono state da sempre per fare delle azioni che possano veramente invertire una direzione diciamo ripartendo dall'intervento di Pepe appunto dal tema io credo che quando lui decide quando decide di intitolare questo dibattito e di centrarlo sulle comunità di lettori secondo me individua prima di tutto un modo di fare editoria comunità di lettori collane sigle editoriali sono oggi sono concetti estremamente connessi e sono per me le basi della nostra della nostra professione sono termini che altri che fanno il nostro stesso lavoro più bravo né meglio né peggio ma in modo diverso non userebbero userebbero al loro posto altre parole come per esempio target e brand lo so benissimo non sono sinonimi comunità di lettori e target ma esprimono comunque il modo con cui approcciare allo stesso problema il modo in cui pensare le persone che leggono i libri che noi facciamo solo che target significa bersaglio individuare un target vuol dire scegliere un bersaglio da colpire con il libro che pubblichiamo la comunità di lettori è invece un pubblico a cui un editore si rifenisce un pubblico a cui un editore deve in un certo senso rendere conto e a cui l'editore può sentire di appartenere soprattutto se utilizza come primo criterio di selezione di un libro da pubblicare il seguente pubblico questo libro perché mi piace nella nostra casa editrice il concetto di collana è da sempre fondamentale è diciamo la maggior parte del pubblico dei lettori ci identifica con con questa collana con la memoria la collana nata nel 1979 arrivata l'anno scorso al numero 1000 e che ha da sempre la stessa grafica siamo questa collana è nata tenendo alla base tra l'altro due idee abbastanza originali la prima era quella di proporre in uno stesso contenitore riproposte e libri nuovi in un certo senso era uno dei primi esperimenti di pocket original cioè pubblicare direttamente in una collana tascabile una novità ma la cosa a mio avviso ancora più interessante è che quest'idea di collana non metteva non raggruppava dei libri per per genere o per argomento o per stile ma rovesciava il concetto non so i primi numeri erano diversissimi era un saggio di Voltaire un racconto di Turgenev oppure un saggio di Sciascia allora contemporaneo sul rapporto tra la DC e la chiesa una favola per ragazzi un giallo americano oppure l'esordio di un grandissimo scrittore come Gesaldo Bufalino libri diversissimi in cui l'unico elemento in comune era l'idea di un immaginario lettore a cui potessero piacere tutte queste cose oppure per dirla con le parole di Pepe La Terza l'idea di una vera e propria comunità di lettori ed è a mio avviso prima di tutto grazie al sorgere di una spontanea comunità di lettori che si debbono i risultati che questa casitrice ha ottenuto in questi anni se avete il tempo e la voglia di andare a vedere sul sito online dei nostri ospiti su ibs.it le pagine dedicate agli ultimi libri che gli ultimi nostri best seller che sono le vichinghe volanti di camilleri e buchi nella sabbia di malvaldi potrete vedere che nella sezione a chi compra questo libro piace anche vengono segnalati di solito 10 autori in questo caso in entrambi i casi 8 su 10 sono autori sellerio cioè chi compra chi ha comprato quei best seller quindi un pubblico abbastanza ampio compra fondamentalmente altri libri sellerio quindi questo è un caso evidente di comunità di lettori e secondo me questa cosa non è un casuale in qualche modo è nel cuore nelle radici nel nostro DNA il rapporto quindi tra la collana o la sigla editoriale e la comunità dei lettori deriva dalla credibilità prima di tutto ma non una credibilità generica occorre essere credibili rispetto a quella determinata comunità di lettori secondo me per fare un esempio Pepe scusami se pronuncio il vostro nome in vano Sellerio e La Terza sono due caseitrici che hanno una buona fama di serietà qualità affidabilità ognuno nel suo campo e non intendo solo una differenzazione tra narrativa e saggistica perché probabilmente un lettore di libri La Terza si aspetta più facilmente dei saggi La Terza in determinati campi che non in altri spero di non dire delle cose sbagliate così come tornando a Sellerio noi siamo molto forti nella narrativa italiana siamo molto forti nei gialli sia italiani che stranieri quindi è più facile che quando pubblichiamo un libro in questi ambiti venga accolto molto velocemente dai lettori al contrario per fare un caso opposto noi non abbiamo per esempio mai pubblicato storicamente narrativa americana contemporanea anche questa è una vecchia eredità sciasciana che non l'amava moltissimo negli ultimi due tre anni abbiamo iniziato a fare americani contemporanei anche pescando piuttosto bene Benjamin Sainz ha vinto il Penn Faulkner Sheila Etty di Sheila Etty si è detto che ha definito un modo nuovo di raccontare la sensibilità femminile contemporanea e ancora JJ Sullivan è considerato da molti il più credibile erede di Foster Wallace e Jim Ben Lerner si è detto che il suo romanzo era il migliore uscito negli Stati Uniti del 2014 bene questi libri quando sono usciti hanno avuto un'ottima accoglienza dai partiti dei giornali però un'accoglienza devo dire più pallida all'inizio da parte del pubblico accoglienza che però nel corso del tempo andava crescendo fino con l'ultima uscita che era per l'appunto questa di Ben Lerner che è andata in modo piuttosto soddisfacente e sono convinto che siccome continueremo i prossimi libri andranno ancora meglio questo non è secondo me frutto di una questa è una dinamica che io quando ho iniziato questo progetto mi immaginavo il nostro desiderio è quello di costruirci una credibilità all'interno di quella comunità di lettori che legge la narrativa americana internazionale contemporanea e diciamo parlo sempre di comunità di lettori non perché è il titolo del del nostro intervento e quindi mi fa bene metterci questa etichetta perché veramente una comunità di lettori sono persone che seguono questa letteratura la seguono già in lingua madre scrivono si parlano si consigliano è davvero una comunità presso la quale è fondamentale acquistare una certa credibilità come ci sono delle altre con delle dinamiche probabilmente anzi sicuramente simili ad altre comunità di lettori appassionati una cosa sui saltando di pari in frasca una cosa sui festival cogliendo quello che dici tu una nostra amica posso dire Pepe una bravissima bibliotecaria ma non ma non solo sostiene insomma che tutte le energie dedicate nell'organizzazione dei festival e con energie si intendono tempo e soprattutto soldi sarebbero meglio destinate alle biblioteche oppure ad altre politiche di sostegno alla lettura adesso io ne abbiamo già parlato poco fa sono convinto che il nostro stato fa pochissimo per le biblioteche e pochino per il sostegno alla lettura in generale per cui su questo sono assolutamente d'accordo ma è sbagliato a mio avviso mettere in concorrenza le due cose i festival io non sono in grado di dire se hanno generato nuovi lettori quello che però sono sicuro è che abbiano evitato che il piccolo numero dei lettori italiani sia ulteriormente calato è un'altra cosa che secondo me sono altrettanto convinto che i lettori italiani che pagano le tasse hanno anche il sacrosanto diritto di avere un luogo dove potersi festeggiare dove poter incontrare le persone di cui hanno letto e amato le pagine e dove poter incontrare persone che hanno i loro stessi interessi quindi di ancora una volta andare a costituire e incontrare una comunità di lettori a lui omogenea sui social network ci sarebbe moltissimo da dire e diciamo non so se sono nemmeno la persona giusta in questi ultimi anni ce ne sono moltissimi ci sono blog di scrittori e giornalisti ci sono blog di dilettanti vediamo una grandissima esponente alla nostra sinistra sono i blog possono essere con un solo autore o invece anche quelli delle vere e proprie comunità e la cosa impressionante è il numero il numero sono grazie a facebook e twitter sono ormai un numero enorme e quelli più seguiti hanno numeri veramente impressionanti maria posso chiederti quanti follower hai 36 mila e 36 mila persone che volo casa lettori 36 mila persone seguono casa lettori non c'è stato una lira di investimento in pubblicità in promozione nulla è diciamo un fenomeno assolutamente impressionante quello che è impressionante è non solo il numero ma a seguire l'attività del blog quella che è impressionante è l'interlocuzione con il pubblico e la credibilità che chi gestisce un blog ha nei confronti del pubblico devo dire probabilmente in molti casi oggi Pepe superiore anche a quella stessa di molti giornalisti di di testate importanti noi svolgiamo un'attività sui social normale dovremmo sicuramente fare fare molto di più abbiamo ci confrontiamo con con altre case editrici di dimensioni simili alla nostra più o meno abbiamo numeri numeri abbastanza simili però io li seguo parecchio quello che è impressionante comunque è per noi prima di tutto un'opportunità che non era mai esistita e che probabilmente un editore quasi non si sognava nemmeno la possibilità di avere dei commenti continui dei giudizi a volte a volte assolutamente superficiali a volte ci sono uno poi vede giudizi particolarmente cattivi ormai siamo tutti un poco sgamati guardiamo la lista degli autori dei monoscritti che abbiamo rifiutato ed è abbastanza facile che i più cattivi li troviamo lì però a parte a parte questi casi molti anche critiche dei libri hanno un assoluto fondamento spesso non sono argomentate con un italiano come quello dei migliori giornalisti però è gente che ha letto un libro pagandolo l'ha letto con passione e questa cosa viene prima di tutto apprezzata dagli altri lettori mi accorgo che l'orario è quello che è e vuole andare verso la fine tu ti chiedi se questa comunità sia un'utopia io credo che leggere sia un'attività meravigliosa una delle due tre cose più belle che possiamo fare col nostro tempo ha un unico difetto leggere è un'attività individuale che si fa fondamentalmente in solitudine a meno che non si vive in un monastero benedettino oppure non si rollano sigari in una fabbrica di tabacco cubana dove ci sono i lettori che aiutano e stimolano la produttività in tutti gli altri casi è un'attività individuale e solitaria solo eventualmente successivamente può diventare un'attività condivisa credo che mai come oggi attraverso la rete attraverso i social network attraverso i festival attraverso la grandissima attività che fanno molte librerie attraverso quello che fanno con fatica alcune biblioteche solo adesso mai come oggi c'è stata la possibilità di fare diventare l'attività di lettura un'attività un'attività condivisa e di vivere nella comunità di lettori grazie allora Alberto mi dice che alle 7.05 c'è il traghetto quindi diciamo o meglio non c'è alle 7.05 ma alle 7.05 dobbiamo alzarci giusto allora io direi che se c'è qualcuno che ha intanto da fare una porre una questione io voglio dare un'informazione interessante Antonio Sellerio diceva che è difficile definire i criteri dei libri di qualità in base ai quali gli si dà le agevolazioni fiscali di cui parlava Eric Vigne se voi andate sul sito del centro del libro li trovate se non erro Eric io me ne ricordo tre molto interessanti il catalogo cioè può avere agevolazione fiscale solo una libreria che lavora sul catalogo anche naturalmente B l'attività di promozione in libreria e fuori e tre molto interessante l'investimento nel personale che non è fatto attenzione questo è interessante dicendo X unità per metri quadri ma costo cioè la libreria deve investire almeno tanto sul suo budget nel lavoro e questo è un tema fondamentale perché come ha detto Eric prima la formazione dei librai quello che si fa qui in questa scuola è una componente essenziale Antonio aveva ragione nel dire leggere un'attività individuale ma se posso citare una piccolissima esperienza ma poi un'esperienza generale perché si fa in tutto il mondo i presidi del libro sono gruppi di lettori che certo leggono il libro non è che se lo leggono insieme a parte come sai leggere ad alta voce è stata per secoli l'esperienza principale diciamo la lettura silenziosa è un'esperienza che comincia a diffondersi soprattutto dal fine settecento ottocento prima nelle valli diciamo valdesi i contadini si incontravano e leggevano la bibbia insieme o leggevano Vittorio Hugo ma uno può leggere individualmente farsi un'idea di chi come è fatta Anna Karenina e poi però parlare con i propri sodali con quelli appunto a comunità che tu dicevi di quello che vuole a partire da un libro il libro è un tramite straordinario per creare questa comunità che diventa anche una comunità di argomenti di discussione di tempi eccetera non so se c'è qualcuno che voleva dire qualcosa altrimenti con anticipo o Eric volevi dire tu qualcosa su quello che hai sentito di Antonio io vorrei revenir su che che avete di perché mi sembra che quando parla di comunità di lettere oggi c'è due tipi di comunità il c'è la comunità che noi cerchiamo a creare noi editeurs con la promotion di un libro che noi mettiamo avanti che ha tutte nos esperanze e noi abbiamo il caso molto che Gaimard come gli altri editori e la même cosa che i confrere italiani un deuxième tipo di comunità che se forme a travers e souvent noi vediamo du co des ouvrages auxquels esperions donner una carriera modesta devenir un succès perché un autre communauté che non abbiamo prevu che non organizzano è creare in una forma di autodécouverta di questi texti e sono queste comunità che mi semblano oggi molto importanti vi ringrazio perché a tarda ora ci avete ascoltato con attenzione e soprattutto vi ringraziamo tutti quanti per il lavoro che fate e credo con gli strumenti che la scuola vi dà farete sempre meglio